Adesso abbiamo l'intervento di Valentina Battistoni, danza autrice, performer, indipendente. La sua ricerca è orientata soprattutto sull'arte partecipata e relazionale, come strumento esperienziale provocatorio che faciliti riflessioni su tematiche sociali e appartenenti all'animo umano. È di Pesaro, ma vive a Bologna. Prego Valentina, togli... esatto, apri il microfono. Ok. Ciao, ciao a tutti. Allora, ho colto questo invito per l'ultima domanda, soprattutto. Quindi, quale tipo di responsabilità ha l'artista dal punto di vista etico, sociale e politico? Quando ho letto l'invito, ho letto questa domanda, ho detto ok, ho sentito qualcosa che stava vibrando con quello che avevo sentito durante questa quarantena, perché è praticamente la prima domanda che mi sono fatta proprio all'inizio delle settimane di quarantena. Quando è iniziato questo ritiro spirituale forzato, come l'ho sentito io, che ho accolto in questo modo, questo spazio di silenzio e di vuoto enorme mi ha dato la possibilità di attivare un grande flusso creativo, non solo dal punto di vista della danza, ma soprattutto, anzi, nel primo caso, nelle prime settimane, con la fotografia, che è l'altro strumento che io utilizzo per esprimermi. Però a un certo punto mi sono fermata a pensare ok, ma tutta questa cosa che produco, tutte queste cose che produco, a cosa servono? Ok, oltre che a me, è perfetto, sì, fantastico, cioè mi serve per esprimere quello che ho dentro, portare fuori le mie emozioni, quello che sto attraversando, tutto ok. Ma da lì e poi a trasformarlo in qualcosa che può essere presentato fuori, ok? Ci deve essere questa domanda, ok, quale responsabilità ho e perché lo presento. E quindi lì sono nate poi tutta una serie di riflessioni che mi hanno poi portato anche a partecipare al primo incontro di un collettivo che è di cui sostengo tantissimo l'intenzione e gli obiettivi che ha e che abbraccio proprio tantissimo. La prima responsabilità che abbiamo noi, almeno che ho, uso perché non lo so, non posso dare voce a tutti, do voce a me. Quello che sento io prima di tutto è poter portare bellezza. Cioè noi abbiamo la possibilità di portare bellezza attraverso la creazione e questo già per me è una cosa stupenda. Lo possiamo fare attraverso uno strumento artistico che dà la possibilità di avere uno sguardo sul mondo in maniera diversa da come magari le persone sono abituate a fare. Perché usiamo come se usassimo un altro paio di occhiali, ecco, non perché gli altri non siano in grado, è solo perché magari non sono abituati a utilizzare la loro creatività anche se ognuno di noi ha un pozzo immenso di creatività da cui poter attingere. Però semplicemente noi attraverso, essendo più abituati, comunque è uno strumento più quotidiano nostro, possiamo dare questo fantastico paio di occhiale anche agli altri e dire ok, guarda che il mondo lo potete vedere anche in questo modo. E quindi già quello è super. L'altra responsabilità che abbiamo è poter portare qualcosa in modo tale che possa far riflettere. qualcosa che possa arrivare a più persone possibili innanzitutto e che possa quindi scatenare una riflessione. Quando io mi sono presentata dicendo che amo definirmi provocatoria, ma nel senso non negativo del termine, che appena senti provocazione può far venire in mente qualcosa di negativo, ma nel senso invece provocatore, quindi pro a favore, proprio a favore di un'azione. Cioè quello che io produco voglio che sia a favore di una riflessione, di un'azione che poi sia un ritorno dalle persone che vedono quello che faccio. L'altra cosa che mi preme tantissimo è iniziare sempre di più a utilizzare un linguaggio che sia il più comprensibile possibile, nel senso che, mi spiego, spesso ho sentito dire da amiche, conoscenti tantissime volte che non vanno a vedere quasi mai la danza contemporanea perché tanto non la capiscono. E purtroppo questo, non perché loro non siano abbastanza intelligenti da capirla, però perché purtroppo a volte è un linguaggio che è un po' elitario. Cioè che per un gruppo ristretto di persone, invece il mio obiettivo è che se ho un messaggio davvero importante da trasmettere e che possa raggiungere più persone possibile, ovviamente non tutti, è chiaro, perché poi ognuno viene attratto da un certo tipo di linguaggio, però che sia, sì, che attingendo dal mio vuoto, dal mio spazio di vuoto, dal mio spazio di silenzio, quindi dal mio inconscio, possa arrivare a parlare all'inconscio collettivo, quindi a una collettività più estesa. Perché questo lo può fare? Lo può fare se io inizio innanzitutto a partire dalla semplicità. Per me proprio c'è un ritorno alla semplicità. Ok, dalla semplicità posso ritornare a costruire. La semplicità non significa essere banali, anzi vuol dire ok, uso delle cose, piccole cose, anzi meno cose, cose magari più semplici e le assemblo in maniera diversa in modo tale che utilizzino un linguaggio simbolico che possa veramente arrivare a una quantità estesa di esseri umani. Questo mi preme perché per me l'arte deve essere anche il mezzo attraverso il quale poter portare non solo noi stessi, almeno non solo me stessa, ad una crescita evolutiva. Cioè l'arte mi ha sempre permesso di crescere evolutivamente, ma quello che spero è poter attraverso quello che faccio poter dare la possibilità anche alle persone che fruiscono di quello che creo per crescere evolutivamente. Perché questo è ancora più facile quando lo fai attraverso appunto l'arte partecipativa è esperienziale che è proprio l'arte verso cui sto andando maggiormente ultimamente e che è buffo perché adesso con il fatto che in realtà c'è anche questo distanziamento probabilmente ci sarà tutta una modifica di come poter far partecipare il pubblico. Però ecco, questo mi preme sempre di più proprio per dire ok, siamo una comunità e quindi io sono un'artista che fa parte di questa comunità e insieme a te, e non voglio più che tu sei solo l'oggetto passivo di quello che io creo e stai lì a guardarmi quello che faccio, ma proprio che diventi creatore insieme a me del messaggio che anche io voglio attraversare, ma soprattutto perché diventando creatore e facendo esperienze insieme a me di quella azione performativa, diciamo, il corpo, come sappiamo, anche di chi fa esperienza come il nostro, avrà un sacco, ingloberà un sacco di memoria e tutta quella memoria esperienziale che è inglobata in quel momento, poi la può portare in maniera meravigliosa nella vita, che è quella la cosa più bella, cioè passare dal, far sì che diciamo si diminuisca sempre più quel confine che c'è tra l'arte e quindi tra gli artisti e la vita e quindi la comunità, che in realtà non ci dovrebbe essere questa linea di confine o comunque nella mia idea, quella linea di confine dovrebbe diventare lo spazio di comunicazione, di integrazione e di scambio, quindi per creare proprio questa cooperazione, perché più che mai in questo momento, almeno io ho sentito questa forte, fortissima spinta, quasi forzata a cooperare, ma comunque siamo certo esseri indipendenti, questo è chiaro, siamo soli, nasciamo soli, ok, ma come abbiamo visto siamo super, 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 super interconnessi e questa interconnessione è un interconnessione che è un dialogo che io sì vorrei mantenere sempre di più, sviluppare sempre di più con l'arte, proprio perché sia uno scambio continuo, uno scambio continuo tra me e il mondo intorno. Valentina, scusa, abbiamo finito il tempo a disposizione. Ok, sì sì sì, grazie, grazie mille, sono andata un po' a flusso, in realtà mi ero fatta, avevo anche fatto una prova specie del discorso, ma poi ho lasciato che le parole andassero, ma comunque più o meno erano questi i temi. Grazie. Grazie a te. Grazie